o buongiorno 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 tra buongiorno come sapete e qual è la notizia insomma non è di quelle clamorose ma è una notizia abbastanza importante per me cioè finalmente è arrivato il milship di bulova il milship è un orologio che come sapete è uscito lo scorso anno ma così anche un po anticipando quello che poi sarebbe successo un paio di mesi fa con il famigerato moon swatch non si trovava nei negozi pertanto pur girando in diversi concessionari rivenditori questi rispondevano no purtroppo l'orologio non è disponibile e non è neanche possibile prenotarlo il che ha determinato anche un particolare andamento per quanto riguarda guarda caso il discorso dei prezzi nel senso che coloro i quali se li sono all'inizio accaparati sui siti di rivendita crono 24 eccetera sui siti di rivendita appunto hanno sparato dei prezzi assolutamente inaccettabili almeno per me di conseguenza io mi sono messo così in attesa di poter avere un prezzo giusto corretto quello del listino fondamentalmente e ultimamente ho appunto avuto l'occasione di acquistarlo a quello che era il prezzo di vendita e di conseguenza finalmente posso dire è arrivato e mi ship e vi posso raccontare qualcosina in riferimento a questo orologio di bulova a Grazie a tutti. Come si conviene ai miei video, partiamo con un po' di storia. Negli anni 50, innanzitutto, Bulova è, fin dagli inizi, stato tra i principali fornitori di quelle che erano le forze armate americane. Bulova, appunto, società americana, la, presumibilmente, più importante società orologia americana, poi smarcata in Svizzera con impianti di produzione, eccetera. Adesso si fa fatica a capire di dove sia, ma comunque non è importante. Negli anni 50, diciamo appunto, il generale 5 Stelle, Omar Bradley, era a capo del reparto di ricerca e sviluppo di Bulova. Fu chiamato a creare un orologio subacqueo militare, resistente, affidabile, semplice. Perché quando hai l'esigenza di avere un orologio militare, hai l'esigenza di avere delle funzioni chiare, indicazioni, magari poche, ma che siano affidabili e siano visibili. Perché ti serve sapere fondamentalmente l'ora e poco di più. Bene, per questo orologio doveva essere utilizzato, appunto, in missioni critiche dai reparti speciali subacquei della Marina Militare Americana, appunto. Il nome in codice del progetto era Mil Ships W2181. Cosa succede? Che non è mai andato appunto in produzione. Il progetto era stato depositato con le specifiche definitive al Bureau of Ships il 5 dicembre del 1955. Per cui stiamo parlando di qualcosa come 64 anni fa. Perfetto. Si trattava appunto di un orologio da polso subacqueo che avrebbe equipaggiato il reparto UDT-XHV nella Seconda Guerra. Che nella Seconda Guerra, chiaramente non nel 1955 perché era finita da dieci anni, ma questo reparto nella Seconda Guerra, era il reparto che conduceva le ricognizioni e le demolizioni subacquee per, appunto, gli atterraggi anfibi, per facilitare gli atterraggi anfibi, gli sbarchi a supporto delle truppe della Marina, fondamentalmente americana. Tra le altre cose, per capirci, alla fine degli anni 50 fu incaricato del recupero delle capsule spaziali e degli astronauti per i programmi spaziali Mercury, Gemini e Apollo. Quindi, insomma, erano quelli famosi, gli uomini rana, quelli che si buttavano, che si vedevano in televisione quando si guardavano i programmi sui rientri dell'astronavi. Nel 57 arrivarono appunto i primi prototipi di questo millship, che appunto si distingueva per una cassa formata da due elementi e grazie al fatto che uno era in ottone e garantiva appunto una forte protezione contro il magnetismo. Il movimento era un movimento a carica manuale, il codice era 10BPCHN con 17 rubini ed era provvisto di un particolare meccanismo a frizione che impediva di caricare troppo l'orologio creandone appunto ipoteticamente dei problemi. Fu collaudato fino a una profondità di circa 392 piedi, cioè 120 metri, per cui insomma quello che fondamentalmente serviva per questo tipo di attività. Non è che si vanno a fare delle immersioni sotto i 120 metri quando si fa un'attività di questo tipo. I nostri comando subacqueo incursori, tanto per capirci, va bene. Appunto dopo 65 anni l'attuale Bulova Minships, uscita appunto nel 2021, presenta una cassa simile a quella dell'originale, dove appunto risaltano le anse di forma affusolata, vedete le anse di forma affusolata, identico anche il quadrante nero, poi mi metto ulteriori fotografie, avete anche già visto il video. Gli indici ricoperti in superluminova, ma sempre con il particolare indicatore di umidità all'interno dell'orologio, che è questo l'indicatore di umidità che dà l'indicazione appunto di qual è la situazione. Questo è impermeabile fino a 200 metri, il fondello re con incisione a rilievo del Master Diver Helmet. In Italia è stata distribuita all'inizio la versione non limitata, perché ne ha fatte due versioni, una con un numero limitato, in Italia era stata distribuita appunto quella non limitata, ma come si diceva prima, mediante gli altri canali si riusciva ad andarli a trovare anche diversamente. Attualmente il movimento è un Miota 8250 automatico, il prezzo, io l'ho pagato qualcosina meno, è 599 euro, le dimensioni, cioè il diametro è di 41 mm ed è in acciaio inox. Questo per darvi un po' di informazioni in riferimento a questo orologio. Vi metto ora anche qualche foto. E' interessante questo grafico che vi metto perché è concettualmente l'evoluzione del valore del modello appunto del Bulova nella fattispecie questo essere limitata, ma cambia molto poco, che come potete vedere usciva inizialmente appunto nell'ottobre del 2021, settembre-ottobre del 2021 quando è uscito a circa 700 euro, nel frattempo è arrivato alla fine del 21 a superare, a raggiungere praticamente i 1000, superando appunto i 900, sempre per questo discorso di chi ce l'ha, che ci vuole guadagnare perché c'è questo mito di guadagnarci soldi sopra, eccetera, eccetera. E' lo stesso fenomeno che ahimè contraddistingue molti degli orologi Rolex e non solo e ha contraddistinto in maniera secondo me abbastanza triste anche questa follia del Moon Swatch appunto della Swatch. Il fatto appunto di non trovarlo ha fatto sì che molti si siano formati la convinzione di farci grandi guadagni. Successivamente è piano piano rientrato, adesso il modello è per l'appunto attestato intorno ai 700 euro iniziali a listino. La versione diciamo normale si trova invece intorno ai 500 appunto. I dati per l'appunto sono quelli che vi ho detto precedentemente. Vi parlo velocemente un pochino di quella che è la storia, per sommissimi capi, degli orologi militari di Bulova. Dunque iniziamo parlando del pilota che nel 1943 utilizzavano i piloti della United States Air Force, cioè Bulova A11. tre lancette dimensioni ridotte fornite in alternativa al gigantesco orologio da pilota di Hamilton, la N5740. Il Bulova A11 USAF montava un calibro 10 AKCSH da 10 linea che appoggiava su 16 urbini. La carica era manuale, ma secondo le specifiche degli Stati Uniti era appunto previsto del sistema EXISTEM per regolare i secondi e sincronizzarsi di conseguenza con precisione. È stato fornito con diverse casse in nickel silver, tutte con il fondello a vite e successivamente nella moderna soluzione di casse in tre elementi prevista di parapolvere interno per la protezione dell'orologio stesso. Quell'altro orologio della collezione Military, sopronominato è l'Upset Time Watch che significa misuratore in qualche modo del tempo trascorso, è la 15 Military che è la reedizione di un orologio militare del 1944. Fu realizzato per le forze aeree, i piloti lo utilizzavano per misurare il tempo di volo e gestire quindi la durata delle missioni sia per gli obiettivi sia per il calcolo dell'autonomia residua. La corona di carica alle due serve per ruotare la ghiera sulla parte esterna del quadrante con scale in minuti, mentre quella alle quattro gestisce quella interna con le scale a 12 ore. L'ultima ghiera prossimale veniva utilizzata per visualizzare, chiedo scusa, e gestire un secondo fuso orario, un po' come successivamente, anni dopo, fece ad esempio il Gliss in Iron Man, un altro orologio dell'aviazione degli anni 50 e secondo alcuni è considerato appunto il primo GMT della storia. Della 15 Pilot originale ne furono costruiti 500 esemplari e distribuito un pochino a tutti i corpi di aviazione alleati. Anche in questo caso, quello nuovo che vi ho fatto vedere, è la reedizione di uno storico orologio militare. in questo caso è un 42 mm con l'82 S6 automatico di miota ed è un orologio per capirci che è intorno ai 500 euro di costo. Continuiamo la breve rassegna con questo Oceanographer, lo Snorkel 666, quindi quello che l'ha fatto, il nome è diventato famoso appunto, chiamato anche il Devil da qualcuno. Comunque, è un progetto originariamente sviluppato per le alte profondità e creato per l'esercito americano. Attualmente appunto in riedizione questo orologio, cioè è presente la reedizione di questo orologio subacqueo degli anni 70. Appunto la scritta Snorkel 666, che sono poi i piedi di profondità, fa riferimento a quello che è il discorso dell'attività, di quello per cui l'orologio è stato pensato, cioè una profondità significativa. Ok, 666 piedi, poi veniva buono, non sono convinto che non fosse 665 o 667, ma 666, the number of the beast, non è male neanche come definizione, specialmente per quanto riguarda la versione quella tutta rossa. Cos'altro dire, fu realizzato anche con la versione Accutron, per cui elettrico-elettronico. Questo che vedete è stato rifatto nel 2016, proprio nel periodo in cui è stato rimesso in produzione un altro mitico orologio, appunto, che è il Lunar Pilot. Lunar Pilot, che pur non essendo un orologio militare, sapete, è stato tra coloro il limitatissimo numero di orologi, due, che sono stati appunto sulla Luna. Vi metterò poi i riferimenti al video appunto che avevo fatto sulla casa Bulova in generale e in particolare poi potete anche andare a vedere il video che parla degli orologi che sono andati sulla Luna. Mamma mia, stanchissimo, si fa per dire. Ci tenevo a condividere così questa cosa, il fatto che mi piace molto queste linee anni 50-60 che poi sono state di grossa ispirazione per quelli che sono i diver dagli anni 70, per cui insomma un orologio che mi sono sentito di cercare e di attendere. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima occasione e ricordarvi, come sempre, di trovarvi un lavoro di giorno. Detto ciò, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e compagnia cantante. Un saluto a tutti.